Ciao a tutti e benvenuti nel primo tutorial di Spark R Studio, che è il nuovo tool di Facebook per creare filtri personalizzati per le Stories. Allora, in questo primo tutorial vi farò vedere come appunto è possibile creare un filtro makeup, che è la prima tipologia che ho provato. Nei tutorial successivi vi farò vedere anche altre cose, come ad esempio come creare una colorazione, oppure come andare ad inserire degli oggettini all'interno del volto, del filtro. Allora, primissima cosa, dovete scaricare Spark R Studio, vi lascio il link in descrizione, è un procedimento molto facile, insomma in pochi passaggi lo troverete sul vostro PC o sul vostro Mac. Grazie 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 cliccando due volte sull'icona aprirete questa schermata che ho davanti in cui potete appunto partire con la creazione del vostro filtro e con la creazione del file allora vi farò vedere un processo molto molto rapido che insomma salterà il passaggio del disegno del filtro che dovrà invece essere creato in photoshop quindi questa parte di grafica ve la farò vedere in maniera molto molto rapida ma vi lascerò il file che utilizzato in descrizione per cui la prima cosa che dovete fare è cliccare su blank project si aprirà il programma come vedete sulla sinistra abbiamo tutte le impostazioni del programma sulla destra invece abbiamo le impostazioni specifiche della funzione che andiamo a scegliere e l'anteprima che vediamo dove qui sulla destra all'interno del cellulare proprio possiamo vedere tutto il filtro in tempo reale che andiamo a creare ora possiamo sia scegliere di vedere questo signore qui sia anche di vederci noi in camera adesso andrò a girare la videocamera ecco qui così potrò creare direttamente il il filtro su di me e potete vederlo già in tempo reale allora partiamo subito anche perché il procedimento è davvero davvero molto semplice sorvolando la creazione del filtro è davvero semplice la creazione insomma del make up e del disegno del make up allora primo passaggio da fare il primo passaggio che andremo a fare è cliccare su focal focal distance tasto destro aggiungi e andiamo ad aggiungere un face tracker eccolo qui ora andiamo tasto destro su face tracker ad face mesh questi sono i primi due passaggi che dobbiamo fare per aggiungere una maschera che vada appunto a tracciare la nostra faccia adesso questa primissima maschera ci servirà per opacizzare la pelle per renderla più morbida quindi andiamo su material scusate ecco qui cambiamo nome possiamo cambiare di nome ad esempio lo chiamo smooth matt perché è la parte che vado appunto ad opacizzare mi sento molto strana in questo in quest'atteprima poi vado qui dove c'è scritto shader type cioè vado a scegliere il tipo di materiale clicco su retouching e come potete vedere mi ha creato un una specie di filtro bellezza in cui posso andare a scegliere di quanto rendere liscia la mia pelle diciamo che intorno non mi piace arrivare fino al 100 per cento perché poi diventa troppo fake però intorno al 70 è un valore che che mi piace insomma ora abbiamo applicato il primo livello per opacizzare la pelle adesso ciò che andremo a fare in teoria dovremmo semplicemente caricare il file contenente il disegno del trucco che dobbiamo andare a fare con photoshop ora apro photoshop per farvi vedere appunto come è possibile creare questo questo filtro vi faccio vedere insomma il risultato finale allora ciò che sono andata a fare è aprire il file in photoshop face smash trackers che appunto è un disegno di una griglia che verrà applicato sulla vostra faccia in questo modo potete andare a capire appunto quali sono gli elementi del vostro volto e applicare il trucco qui abbiamo le labbra e gli occhi quello che sono andata a fare praticamente è a partire da questo file che vi ho inserito nella cartella di google drive che trovate sempre in descrizione sono andata prima di tutto a mettere un livello bianco sotto in modo da vedere meglio la griglia e poi andare a disegnare il trucco una volta disegnato il trucco al di sopra di questa griglia sono andata a nascondere la griglia e nascondere il livello di base e il risultato che ho ottenuto praticamente è questo dove semplicemente le labbra e le guance le ottenute utilizzando il pennello e andando appunto a colorare e a sfocare la parte interessata stesso per le sopracciglia mentre le ciglia e l'eyeliner le ho realizzati andando a cercare su internet delle immagini di eyeliner in formato icon e le ho incollate le ho deformate per ottenere appunto questa forma ad eyeliner molto 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 carina quindi una volta che avete creato il vostro filtro a partire dalla griglia lo dovete salvare in un formato png terrete il file del trucco che dovrete poi andare a caricare in spark ar studio vi metto anche questo file che vedete qui sotto in descrizione che si chiama no makeup 7 e nel caso in cui non avreste dimestichezza con photoshop potete utilizzarlo direttamente all'interno di del programma in alternativa photoshop che comunque un programma a pagamento ci sono dei programmi online come xl si chiama ce l'ho fatta che appunto contiene le funzioni base che potete utilizzare per per realizzare lo stesso trucco che ho disegnato che ho disegnato qui quindi prima di applicare il trucco quello lì insomma che vi ho fatto vedere il file no makeup 7 vi faccio vedere però un piccolo trucchetto per cercare di capire come realizzare al meglio il vostro trucco quindi andiamo ad applicare la griglia che avete visto in photoshop l'andiamo ad applicare sul nostro viso quindi andiamo di nuovo qui al lato andiamo su face tracker clicchiamo col tasto destro e clicchiamo di nuovo su face mesh a questo punto abbiamo ricreato un'altra volta questa specie di maschera andiamo su material create new material lo chiamiamo trucco e su questo livello praticamente dovremo andare ad applicare il trucco che abbiamo creato andiamo su shader type qui sulla destra a questo punto mettiamo face paint face paint che dovremmo andare a caricare noi praticamente possiamo scegliere o di caricare la griglia che vi ho fatto vedere se vogliamo capire meglio come realizzare il trucco e insomma quali sono i punti del nostro volto su cui dovremmo andare ad applicare il trucco oppure possiamo applicare direttamente il file no makeup 7 vi faccio vedere prima come funziona la griglia come come la visualizzazione della griglia e applico face mesh tracker a questo punto posso eliminare questa griglia andando di nuovo qui su texture e facendo remove e scelgo un altro file che è appunto il file dove ho disegnato il makeup che si chiama no makeup 7 eccolo qui lo prendo faccio apri si è bloccato è tipo super lento ma ce la fa eccolo come potete vedere con molta lentezza il trucco però è stato applicato al meglio a questo punto non dovrete fare altro che fare file e cliccare su export per esportare il file che contiene il filtro e otterrete questo file qui questo è il file insomma che ho chiamato no makeup e l'estensione ar export che è il file che dovrete poi andare a caricare su spark ar studio per appunto richiedere l'approvazione ora invece andiamo su spark ar studio perché vi faccio vedere appunto come è possibile adesso prendere questo filtro e caricarlo su facebook la procedura è sempre la stessa per qualsiasi filtro voi create la procedura di caricamento su facebook allora siamo sul sito spark spark ar punto facebook punto com che vedete questo per entrare nel vostro ab creativo qui questa è la stessa pagina insomma che abbiamo usato per il download qui lo scarichiamo e cliccando invece su manage effects possiamo entrare nello spark ab che sarebbe la nostra riservata e che collegata direttamente al nostro facebook quindi ok questo è il mio unico filtro che ti ho caricato e quindi ancora non è stato approvato e qui vi compariranno quindi tutti i filtri per caricarne uno dovete cliccare su carica effetto insomma vi da una piccola pagina prima cliccate se inizia e qui la prima cosa che dovete fare è aggiungere il nome aggiungere il file che avete esportato di estensione ar export quindi questo qui praticamente poi dovete scegliere chi è il titolare dell'effetto in questo caso vi consiglio di mettere la pagina facebook collegata al vostro account instagram se volete appunto che il filtro compaia all'interno del vostro account instagram poi dovete scegliere dove volete che venga caricato l'effetto in questo caso sceglierete instagram se volete farlo vedere su instagram e come vedete automaticamente vi comparirà il nome dell'account instagram collegato alla vostra pagina facebook poi non vi resterà che spuntare questa casellina sì se all'interno del filtro sono presenti dei materiali insomma promozionali poi dovete dare un nome all'effetto dovete scegliere un'icona che insomma rappresenta in qualche modo l'effetto ci sono tutte le linee guida qui consigliate da instagram vediamo se ecco io carico questo giusto per esempio così posso fare conferma e posso fare carica e continua dopo aver accettato l'accordo regale ok confermate la scelta perché dopo non potete più cambiare la pagina e l'account instagram di destinazione continua ecco a questo punto avete ottenuto il famoso link di anteprima che vi servirà per provarlo sia voi stessi sia per farlo provare ad altri amici avete fino a 50 utenti disponibili a cui potete farlo provare basta copiare il link trasferirvelo sul telefono attraverso whatsapp o qualsiasi altra app di messaggistica una mail eccetera cliccare sul vostro telefono su questo link e vi si aprirà il filtro direttamente nella fotocamera delle vostre stories quindi è super divertente perché potete provarlo in anteprima se quindi una volta effettuato il test sul cellulare il vostro filtro vi piace potete cliccare su passaggi successivi bisogna selezionare una categoria che nel caso del trucco sono praticamente selfie inserire delle keyword nel caso in cui vi interessi insomma e poi inserire anche un mini video dell'effetto un video demo dell'effetto che io ho creato semplicemente creando una storia da instagram mentre provavo il mio effetto quindi praticamente ho caricato il link sul mio cellulare l'ho cliccato e ho utilizzato il filtro nelle mie stories ho registrato una piccola stories di 15 secondi che poi sono andata a caricare qui all'interno possiamo sia salvarlo come bozza sia cliccare su avanti per completare l'approvazione ora a questo punto qui potete scegliere se programmare la pubblicazione e quindi impostare una data d'inizio in cui il vostro filtro diventerà pubblico oppure decidere che questo filtro si attivi direttamente quando ha ottenuto l'approvazione io di solito clicco su attivo una volta ottenuto l'approvazione perché non ho nessun giorno di lancio in cui vorrei far uscire il filtro mentre se voi avete in mente una strategia diversa o comunque lo create per un'occasione speciale potrebbe essere interessante comunque impostare una data d'inizio e di fine ora non resta che cliccare su avanti vi chiederà di controllare tutte le informazioni e poi il filtro verrà inviato per l'analisi dopodiché dovete aspettare una decina di giorni per che il filtro insomma vi venga approvato da Facebook l'ultima volta io ho aspettato 4-5 giorni lavorativi quindi il processo al momento sembra essere abbastanza snello e abbastanza rapido niente spero che questo tutorial vi sia stato utile ma soprattutto spero che sia stato abbastanza rapido perché ho cercato di raggruppare un po' di informazioni che ho trovato in rete presto arriveranno nuovi tutorial in cui vi spiegherò altre funzioni di Spark R Studio come creare dei filtri che siano quanto più accattivanti e personalizzati possibili non scordatevi di iscrivervi al mio canale YouTube qui sotto di seguirmi su Instagram e noi ci vediamo nel prossimo tutorial Grazie a tutti